Gormiti! Il Titano ha deciso di sacrificarsi per poterci salvare. Potete tornare a casa, finalmente. Mi dispiace che ce ne dobbiamo andare. Devo entrare nel portale aperto da Eglos per andare a cercarlo. Lo conosco e so che non ha buone intenzioni. Adesso vi saluto, guardiani. Gorma sarà per sempre in debito con voi. Arrivederci, Sol. Ehi, ma dov'è Aoki? Mi dispiace. Non posso venire con voi. Cosa? Non posso tornare alla Torre Mecha. Non ancora. Ho bisogno di scoprire da dove vengo. Io voglio sapere chi sono davvero. Kawaiuki! Sol, vorrei venire con te. Tranquilla. Noi lo capiamo. No, io non voglio capire, invece. Noi ci incontreremo ancora. Prima o poi. Me lo sento. Kawaiuki! Pelodon! Come lo sento. adopting golca. Poffa! Original proprio! Con nodar! Terra? Ho potuto! Per gitu! E pixe! our reselly